Buongiorno, benvenuti a questa rasseglia stampa dalla terra dei Monsoni, non è esattamente il posto giusto dove trovarsi, quello dove mi trovo oggi. Cosa c'è sui giornali? Sui giornali, già me ne ero accorto ieri su internet, c'è una piccola cosa che riguarda noi di Quarta Repubblica, il sottoscritto, c'è Lorenzo Borga che sul foglio si occupa di un servizio fatto da Quarta Repubblica, questo signore si dovrebbe occupare di fact checking come si suol dire oggi, cioè pensare che gli altri sono degli stronzi mentre loro sono bravi e ci spiegano come funziona il mondo e il fact checking è in funzione di un servizio che ha fatto Quarta Repubblica in cui non si vuole dimostrare nulla, anche se Salvini pensa che questo dimostri tutto, ma si vuole semplicemente dimostrare che anche un bambino piccolo, Lorenzo Borga, uno piccolo piccolo, uno che ha la metà degli anni tuoi, forse tuo figlio, capisce che se ci sono delle navi in mezzo al mare, i trafficanti di uomini sanno che quelle navi in mezzo al mare possono salvare degli uomini che loro piazzano su dei gommoni che non arriverebbero neanche a 20, 50 miglia dall'Italia, 100 miglia dall'Italia, perché sono dei gommoni fatti per crollare dopo poco in mare, questo Lorenzo Borga nei fact checking del foglio non lo sa e considera questa, almeno così dicevano ieri sui siti internet, la fake news di Quarta Repubblica non è una fake news, a differenza del giornale di Borga che quando trova una notizia ci scappa e avendolo conosciuto bene quel giornale, avendoci lavorato, me lo ricordo bene, che era proprio il principio del foglio, se c'è una notizia per carità non ce la fate sapere perché noi vogliamo soltanto avere opinioni non fatti e ha un po' sbagliato, tra l'altro Borga, toc toc, c'era anche una collega, vorrei fare come fate voi, voi di sinistra, intelligente, solida, quelli che odiano Trump, che fea il sessista, non ti ricordi che c'era anche Lodovica Bolian insieme ad Aloiso, eppure era in studio a raccontare quel servizio che tu evidentemente non hai visto, ma ha cecato dalla furia antisalbiniana, hai voluto considerare una fake news, era molto meglio quando il foglio come i tempi miei, come diciamo noi vecchi, almeno non ci si firmava, almeno così i cazzoni che fanno il fact checking, c'è questa specie di no, se tu dici faccio il fact checking sei un fenomeno, erano in due a fare il servizio, quindi il servizio in cui si capisce perfettamente che l'ONG stanno lì con le braccia aperte a prendere i migranti, è una cosa un po' difficile da capire da Lorenzo Borga e dal foglio, se odiate Salvini, legittimo, se lo considerate intrusce, legittimo, ovviamente noi abbiamo difeso con il foglio Berlusconi anche nelle cose più, come posso dire, più incredibili, ma il punto fondamentale, sapete qual è? Attaccate loro, non ve la prendete con un servizio di Quarta Repubblica, cosa succede poi nella politica è presto detto, la crisi c'è ma non si dice, è il titolo della Repubblica che gode come un riccio perché effettivamente l'unica cosa divertente di questa crisi è che in questa crisi c'è una specie di retroscena, un non detto che mi farebbe godere come un riccio e cioè mettere da una parte Salvini e far fare il governo e gli amici del foglio, cioè di Lorenzo Borga e Laboschi, i Renziani, i Calendiani, tutta questa bella pattuglia di persone che sono per benissimo, sono tutti fact checker insieme al Movimento 5 Stelle, perché il problema è il truce, non quei cazzoni del Movimento 5 Stelle, cioè gli stessi che come Ursula van der Leyen dicono una cagata pazzesca e che forse un fact checker potrebbe controllare, cioè che il salario minimo è una minchiata che piace tanto alla Presidente della Commissione europea, ma non si può discutere perché se la discuti sei un salviniano, questo è il concetto, signore oggi, l'unico pezzo interessante mi sembra sul giornale oggi, non sul giornale, sui giornali di oggi, dice attenzione perché la crisi non è detto che ci sia o non ci sia, perché tutti dicono la crisi se la fai entro il 20 luglio, come spiega benissimo un colonnino del Corriere della Sera, puoi far sì che si voti il 21-22 settembre, se non la fai entro il 20 luglio non si va a votare perché dice poi c'è la finanziaria, mentre Adalperto signore spiega una cosa diversa, ma chi l'ha detto che non si possa votare a novembre? Anche perché il truce potrebbe cambiare completamente le carte in tavola, ne ha cambiate tante, potrebbe anche decidere di non votare a novembre. Belpietro dice Salvini, e su questo secondo me lo devo dire, uno può anche difenderlo Salvini, ma mi sembra un po' azzardata questa cosa, Salvini passa all'attacco dopo essere stato silenzioso su Moscopoli e l'avvenire che è il manifesto di oggi, cioè prendete il foglio, spostatelo a sinistra, prendeteci il manifesto, spostatecelo a sinistra e metteteci i preti cattocomunisti e avete l'avvenire, un giornale per il quale ovviamente l'otto per mille di molti italiani non va più alla chiesa, l'avvenire come titola oggi, adesso ve lo dico, gelo siberiano, cioè la crisi di governo deriverebbe da Moscopoli secondo quei geni di Tarquinio e compagnia cantante, la stampa poi ci racconta una cosa che io non avevo capito, perché tutti quanti dicono che ieri sono successe due cose politiche, la prima è che Giorgetti ha rinunciato a fare il commissario europeo e va da Mattarella a dirlo e il secondo dice, Repubblica, che Salvini avrebbe disdetto un appuntamento al Quirinale, poi io leggo la stampa di oggi e capisco che è un po' diverso dal disdire un appuntamento al Quirinale per drammatizzare tutto, ma che c'erano state delle voci di un incontro tra Salvini e Mattarella, che se ci fosse stato quello sì sarebbe stato davvero prodromo secondo alcuni di una crisi di governo, queste voci di un incontro tra Salvini e Mattarella sono state smentite in tarda serata, questo è quello che è successo. Andiamo avanti, in questo ovviamente poi c'è tutto il PD che è divertente, Rabboschi che fa il suo coso, fate la sfiducia, insomma stiamo parlando di robe, diciamo dettagli, ma la cosa più bella è che io mi spiace quasi essermene presa con questo ragazzo, questo fact checker del foglio, era meglio quando non firmavamo del foglio, ma insomma erano anni passati, quando invece poi tu leggi un personaggio, un giornalista ridicolo, ridicolo come Gad Lerner, ma perché ridicolo? Perché io non me lo ricordavo così, oggi c'è una paginata intera su FOA e come direbbero i Lerner e quella pattuglia là, è fango allo stato puro, anzi diciamo la verità, merda allo stato puro, che però è scritta da Gad Lerner che dice, ed è rivolta questa volta a Marcello FOA, dice FOA quello che sa di Putin, FOA l'uomo che sa di Putin, insomma secondo me FOA sa di Putin molto meno di quanto Lerner sappia di Carlo De Benedetti, con i quali girava col suo elicottero a spese di l'elicottero di Carlo De Benedetti e scrive un pezzo disgustoso in cui l'unica cosa che si ricorda è un convegno a Lugano, peraltro Lerner invitato da FOA per omaggiare un grandissimo del giornale che era Dan Segre e quella merda di Lerner e posso dirlo veramente in questo caso pensandolo, si permette così come quando dice chissà che pensa della madre di Salvini, perché caro Lerner io ti conosco, ma come ti permetti di dire che Dan Segre che era un vecchio signore si sarebbe vergognato di quello che è diventato oggi FOA, cioè filo russo, A bisogna vedere se è filo russo, B come fa a sapere quello che pensa un morto del suo rapporto con una persona che conosceva bene, C sputtani, FOA come se fosse un giornalistucolo, non ha mai fatto nulla più di fare il capo servizio del giornale, forse perché a differenza di Lerner, io questo lo so bene, FOA non andava a casa del suo padrone, cioè Silvio Berlusconi, editore del giornale, con l'elicottero come hai fatto tu qualche volta in Sardegna, va bene? Adesso io poi, Marcello lo conosco da anni, quindi posso dirlo con grande franchezza, uno può condividere o non condividere come fa il Presidente della RAI, ma dire che l'uomo di Putin e fare questa paginata oggi di FOA sul giornale e sul Repubblica è imbarazzante, devo dire imbarazzante anche i tonnelli che blocca la gronda, l'iter procedurale è stato approvato dopo 15 anni, ci sono 4 miliardi e 2, dovrebbero fare le autostrade, ma obiettivamente è bloccata la gronda fondamentale per la viabilità di Genova da Ponente al resto dell'Italia, sapete perché? Perché ovviamente siccome la dovrebbero fare i Benetton, i Benetton vanno bene per fare l'Atlantia, per fare con Atlantia l'alleanza all'Italia, ma non vanno bene per fare la gronda, quindi vanno bene per fare un business che conoscono, anche se devo dire che sul Ponte Morandi hanno fatto un disastro, mentre invece non vanno bene per un business che conoscono, mentre vanno bene per fare un business che non conoscono e cioè all'Italia. Kevin Spesi lo vedete adesso, lo potete vedere sul sito nicolaporro.it, raccontato magnificamente da Alessandro Gnocchi, dopo tutto il casino si è dovuto dimettere, l'accusatore del MeToo è scomparso, non c'è più, non avrebbe commesso quelle bassezze di cui lo accusavano. Oggi i giornali purtroppo, e qui è geniale il fatto quotidiano, celebrano ma poco un grandissimo ingegnere, filosofo, simpatico che non si prendeva sul serio, come Luciano De Crescenzo, cagato zero perché ha avuto il problema di morire il giorno dopo Camilleri e forse io aggiungo, insieme a Feltri oggi che lo scrive in maniera inequivoca sul Libero, c'è un altro svantaggio di non essere comunista come Camilleri, ma comunista d'antanque, quelli proprio del pugno chiuso, quello che gli fa schifo tutto ciò che non è comunista, quindi ridicolmente comunista. Direi che per oggi è tutto, un grande saluto dai Monsoni, noi ci vediamo con la Zuppa, come sempre domani, ciao!